Il signor Scott, per favore, vi parla John Cream. Il signor Scott è partito, torna lunedì. Signor Cream, lei deve venire a Las Vegas, al casino dell'hotel Ors Shoe. Centravino. Per favore, Las Vegas, hotel Ors Shoe. Un momento, prego. Hotel Ors Shoe. Il casino, prego. Casino. Vorrei parlare con la signorina Tamara. Sì, subito. Un momento, prego. Aspetta, bellezza. Aspetta l'apparecchio. 006 alla centrale. Manovre di disturbo del nemico scoperte a San Francisco e prontamente neutralizzate. Centro delle operazioni d'ora in avanti, Las Vegas. Suppongo sia lì il quartier generale dei Pepitas. Passo aiuto. Espetta, bellezza. Manovre diрупana. Chiesa. Personalazioni adulti. La... Marorna. Eres! Un momento, prego. Cuocoiese 123. Un momento. Un momento, prego. Eh. Vai pure, non ti preoccupare. Avanza di Stefano veloce ma è fermato da Corso. Corso avvasta Bulgarelli. Rivera Bulgarelli. Bulgarelli, Rivera, due uomini superati. Massola, tira! No, fuori, scusate. La palla, l'ambito, il palo... Pronto? C'è stata un'interferenza ma ho risistemato tutto. Tengo tutto in pugno. Feel better not if he shoots him. We have to go back and get him. We're on fire. Turn in head for sure. Martin, why don't you drop her off on your way home? You two seem to have a lot to talk about. You two seem to have a lot to talk about. You two seem to have a lot to talk about. Sì, no, 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 no. Well, Tanya, I warned you about failing. You stupid fool. You're so doped up, you're unconscious. this evening's performance must not go unrewarded a triple dose my dear with a bit of luck we just might run into our man what is this a western hai capito lo hai fotografato nella memoria fotografato ma è venuto un po' sfocato che avrei tutta questa roba allora prova solo non c'è bisogno apri ho capito tutto ho detto ma non abbiamo tempo io devo andare a Bergoglio ho detto apri è un ordine se è un ordine non ti scusi qualcuno esce è lui è lui ti Además è un ordine mille siccome se fa ...consulto, Stasio Samorova è già morta, e voi la seguirete fra poco. Ebbene, Charles Duff, se volete conoscere il professor Enkel, oppure Gustav, oppure Fred, ebbene, Charles Duff, l'avete qui presente! Nella vostra chiara esposizione avete dimenticato un piccolissimo particolare, soltanto un cadavere, il primo, quello del mio amico Brebs. Ebbene, Charles Duff, se volete conoscere il professor Enkel, oppure Fred, ebbene, Charles Duff,